Torno allo spazio Data News dedicato a tutto lo sport del weekend. Roma-Napoli è il primo video della Serie A all'Olimpico Derby del Sud con vista Scudetto. Cremonese-Sabdoria ancora senza vittoria, la gara dello Zini è già spareggio salvezza. Serie negative per la Sassuola e Verona, Alma-Pay Stadium per invertire la rotta. E partiamo dalla sfida Mourinho-Spalletti, quello dell'anno scorso è stato l'unico pareggio nelle ultime 11 gare a Roma tra Giallorossi e Parnenopei. L'approfondimento di Olibe TV propone il Napoli favorito con il 40% di probabilità. Negli ultimi sei precedenti in Serie A, Cremonese-Sabdoria hanno segnato entrambi in una sola circostanza. Su Olibe TV almeno una squadra senza reti è prevista con una probabilità par del 40%. E chiudiamo con Sassuolo-Verona, Olibe TV sottolinea che i nero-verdi sono reduci da due sconfitte consecutive e gli scadigieri da 5. L'unici di Dionisi parte favorito con una probabilità di vittoria del 50%. E su Olibe TV trovate tutti gli approfondimenti statistici sugli eventi sportivi del weekend e noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con Data News.